A TUTTO PONENTE Grazie, grazie. È un piacere averla qui con noi e al suo fianco Marco Scaiola, consigliere regionale del PDL e coordinatore provinciale del partito. Grazie. Allora, onorevole, un giro in provincia d'Imperia per toccare diverse realtà del nostro territorio legate ovviamente al discorso europeo, ma poi anche uno sguardo sull'Expo 2015. Questo appuntamento che si sta avvicinando, mancano poco più di 500 giorni, un appuntamento che riempirà da maggio a ottobre, si parla di milioni di visitatori, che potrà avere anche un legame con la Liguria e in questo caso con il Polente Ligure? Assolutamente sì, ce lo auguriamo e lo spero in prima persona e da Lombarda dico che l'Expo non è Lombardo, proprio perché l'intenzione che noi abbiamo è quello di ampliare l'Expo anche per l'Indotto e anche per tutte quelle regioni che sono vicine sicuramente alla Lombardia. Penso che la Liguria possa dare molto, sia da un punto di vista turistico ma anche da un punto di vista agroalimentare, perché uno degli elementi chiave dell'Expo è l'elemento agroalimentare. Per me la Liguria è oltre a essere una delle regioni del mio collegio quindi di competenza, ma ritengo che sia anche una delle regioni che è maggiormente interessata da alcune direttive europee, quindi il mio è un continuo ritorno, più o meno ogni mese sono in questa regione per seguire varie dinamiche. Si parla appunto di cibo, di agroalimentare all'interno di Expo e in Europa state lavorando anche in questo senso, soprattutto in merito alla protezione anche dei nostri prodotti. Innanzitutto all'interno dell'Expo, ieri abbiamo fatto anche un incontro molto tecnico con i sindaci e gli amministratori e ringrazio Marco che ha anche organizzato l'incontro per chiarire bene cos'è l'Expo, perché ne parliamo tanto ma all'interno di questo noi dobbiamo cercare di valorizzare il cosiddetto made in, in questo caso il made in Liguria. Noi a livello europeo stiamo portando avanti delle normative di protezione della sicurezza dei prodotti ma protezione anche del consumatore stesso. Quindi come ci atteggiamo anche nei confronti delle imprese? Sicuramente di valorizzare chi produce quasi tutto in Italia e quindi la tracciabilità del prodotto. Immagino il vostro olio, immagino il vostro vino che nasce, cresce e viene realizzato proprio sul territorio. Questo deve essere una peculiarità. Introdurremo anche nell'Expo una sorta di educazione alimentare. Noi usiamo molto più spesso l'olio che il burro e quindi è una dinamica anche differente rispetto agli altri paesi europei. Quindi sarà importante che la Liguria sia presente all'interno dell'Expo ma in modo attivo e in modo anche dinamico. Oltre al fatto di creare dei pacchetti turistici dove si abbini naturalmente l'Expo a una visita a Milano e anche la vostra peculiarità turistica perché è in piena stagione. Quindi abbiamo detto da maggio fino a ottobre, insomma per voi penso sia il periodo clou. Qui da noi abbiamo un problema, lei lo conoscerà quello dei trasporti. Purtroppo un'autostrada congestionata, la ferrovia non ha ancora il raddoppio, quindi le linee veloci da noi non possono arrivare. L'aeroporto bisogna appoggiarsi o a Genova o anche alla vicina a Nizza. Insomma su questo bisognerà lavorare perché è uno degli assi portanti di tutto questo discorso. È fondamentale. Io penso che le infrastrutture siano fondamentali per lo sviluppo di un territorio. È vero anche che la morfologia della Liguria a volte non consente di sviluppare alcune infrastrutture. Penso all'autostrada ad esempio sarebbe sicuramente più utile avere più corsie. Dall'altra parte il treno non c'è un collegamento rapido e veloce con Milano. L'aeroporto secondo me è forse il punto più debole. Lo dico da persona che vive per metà settimana a Bruxelles. Per me è molto più comodo e anche fattibile atterrare a Nizza piuttosto che Genova in quanto non c'è un collegamento diretto con Bruxelles che è la capitale europea. Quindi rimango perplessa. Quello che noi dobbiamo secondo me valorizzare è sicuramente questi pacchetti anche aerei. Da quanto mi hanno riferito ieri ci saranno delle nuove tratte che verranno gestite direttamente da Genova. Ma non sottovalutiamo anche un miglioramento delle infrastrutture verso Nizza. Perché esistono già, non dobbiamo pagarle noi le nuove tratte, serve semplicemente un collegamento. Scaiola, un argomento che non è da perdere questo dell'Expo per il nostro territorio. Ma assolutamente, la motivazione dell'incontro di ieri è stato proprio quello di focalizzare e di concentrarsi e di unire le forze nei confronti di questa opportunità straordinaria che la Liguria non può sicuramente perdere, non può sicuramente perdere la provincia d'Imperia. Perché la provincia d'Imperia per le sue tipicità è vino, l'olio, la caratteristica del nostro entroterra, la caratterizzazione del nostro mare. Quindi diverse tipicità che in un discorso che assolutamente non deve essere campanilistico, perché quello che è emerso ieri durante l'incontro è stato ovviamente quello che non possiamo pensare di andare all'Expo 2015 e essere concorrenziali come Imperia, Sanremo, Bordighero. Dobbiamo essere concorrenziali in primis come Italia e poi come Liguria, molto forte, fare gruppo con le sue caratterizzazioni. Questi incontri, tipo quello di ieri, sono stati fatti in altre province. Io l'ho voluto fare insieme al collega Sibilia, qui ad Imperia, proprio per unire amministratori e associazioni di categoria, Camera di Commercio. Ci serve il gioco di squadra, le possibilità ci sono. L'Expo 2015 è una grande vettrina, una grande occasione. Dobbiamo essere bravi non solo ad essere lassù, ma a garantire e a fare quel discorso che è fondamentale per noi, ovvero dell'incoming. Perché comunque dobbiamo far conoscere la Liguria. Io spesso nelle mie battaglie in regione lamento il fatto che la promozione turistica della Liguria spesso sia carente, ovvero poco conosciuta e poco presente dove deve essere presente, quindi bisogna gestire le risorse in maniera oculata. Ma quella vettrina sarà straordinaria non solo per il momento Expo 2015, ma per il dopo Expo 2015, quindi per avere un bel biglietto da visita per valorizzare la Liguria. Non dimentichiamo che la Liguria deve avere una vocazione turistica. Lo ribadiamo sempre, perché non sempre da tutti è compreso questo discorso, spesso ancora senti della titubanza nei confronti di una vocazione turistica del nostro territorio, non tanto dagli operatori cittadini che l'hanno capito prima, ma da qualche politico che ancora fa fatica. La Liguria, se vuole avere un futuro, è un futuro può averlo, e quello ovviamente è della vocazione turistica. Poi voi consiglieri regionali qui del posto dovrete battagliare affinché la Liguria in Expo 2015 non sia Genova e le Cinque Terre. Questo al di là dei colori politici, ma proprio per il carattere dei genovesi. Ma su questo abbiamo già avuto garanzie, perché stava già nascendo una piccola polemica sul fatto che il Comune di Genova fosse lui a gestire, diciamo così, l'immagine dei comuni Liguri. Era finitelo. Di questo noi non siamo d'accordo, noi vogliamo assolutamente delle garanzie, queste garanzie ci sono venute dall'Anci, che gode ovviamente tutta la nostra stima e fiducia, quindi l'Anci si occuperà di garantire la visibilità e anche l'organizzazione dell'immagine dei comuni Liguri all'interno dell'Expo 2015. Onorevole, spesso quando si parla di Europa, noi parliamo di stabilimenti baneari, della famosa direttiva Bolkestein, perché recepiamo un po' le lamentele degli operatori sul territorio che hanno poche certezze per il futuro, quindi sono anche frenati nel fare investimenti. Ecco, questo è un nodo importante. Guardi, ho iniziato a seguire la problematica dei baneari dal 2009, quindi da poco dopo che sono state eletta. Sicuramente non è un problema semplice da risolvere. Quello che noi abbiamo fatto a livello europeo è tutto quello che potevamo fare, perché ora è il governo e soprattutto anche poi il Parlamento che dovranno approvare una legge, una legge che permetterà e che deve consentire a coloro che hanno lavorato bene, perché anche su questo bisogna fare una distinzione, io sono convinta che gli stabilimenti debbano rimanere a chi ha sempre portato avanti efficienza ed efficacia, a chi invece non ha lavorato bene, è bene che, scusate il gioco di parole, però venga dato ad altri concessionari. Quello che stiamo vedendo ora è anche una separazione, quindi tra una parte commerciale che potrebbe essere sdemagnalizzata e quindi acquistata direttamente con un diritto di opzione da chi la sta gestendo attualmente e poi una seconda parte che è quella della spiaggia, quindi una parte più circoscritta e limitata, dove dovrebbe andare a evidenza pubblica. Abbiamo e hanno svolto una serie di incontri con il Governo, ma anche con i rappresentanti del PDL lo scorso giovedì, quindi con Brunetta, con Gaspari, con Pizzolante, che quest'ultimo per noi è colui che è nel tavolo tecnico per la rappresentanza appunto dei balneari e giovedì prossimo incontreranno anche gli esponenti del PD. Qui nasce un problema, dalle dichiarazioni di Fassina e proprio dall'incontro anche di stamattina c'è una discordanza e un problema interno al PD, ovvero molti non vogliono quindi le aste, permettetemi questo termine che non è corretto, invece altri le vogliono sempre all'interno del partito. Quindi non si è riuscito a mettere all'interno della legge di stabilità quello che doveva già di sua natura entrare, come aveva detto anche il sottosegretario all'economia, perciò tutto questo viene traslato. Io l'appello che faccio è sicuramente che ci sia una chiarezza all'interno del partito democratico verso un sì o verso un no, quindi che prendano una posizione. Noi come PDL su questo siamo stati sempre uniti e compatti, lo abbiamo dimostrato anche ai sindacati, il PD vediamo che ha questa spaccatura, a tal punto che il Vice Ministro è in contrasto con quello che fa il sottosegretario. Proprio oggi lei ha incontrato poi i balneari locali, proprio per discutere di questo. Ho rincontrato i balneari locali perché ormai è un appuntamento fisso e frequente, tra Bruxelles che sono venute donne da mare a trovarmi direttamente a Bruxelles, erano anche precedentemente venute una delegazione di balneari con l'incontro con Barnier, quindi ormai sono di casa a Bruxelles, però tengo molto a questo problema perché la parola e l'impegno che ho promesso deve essere rispettato e lo sto rispettando. Tra i vari incontri sul territorio in programma è anche quello con i frontalieri, un'altra tematica molto sentita qui, ma credo anche in altre zone d'Italia, insomma qui abbiamo da noi, soprattutto a 20 miglia, migliaia di persone che ogni giorno varcano la frontiera per andare a lavorare altrove, si parla di tassazione, doppia tassazione, fiscalità, la sua posizione in merito? Io mi trovo ad affrontare il problema dei frontalieri in due dinamiche diverse, la prima gli italiani che vanno in Svizzera, perché io abitando anche vicino al confine svizzero ho avuto una serie di problemi che mi sono stati poi enunciati e anche abbiamo visto una serie di dichiarazioni, proprio perché la Svizzera non rispetta alcuni accordi Schengen, prima cosa c'è anche un problema di discriminazione salariale e anche personale nei confronti dei lavoratori italiani in Svizzera, sono 56 mila ogni giorno, il problema è che la Svizzera non è all'interno dell'Unione Europea e quindi anche degli accordi o alcuni accorgimenti sono sicuramente più difficili. Adesso incontrerò anche più tardi i frontalieri italiani che vanno in Francia, devono essere naturalmente tutelati e soprattutto con la facilità che la Francia all'interno dell'Unione Europea di trovare una soluzione comune. Con questo, con Marco, ci eravamo già sentiti spesse volte anche di presentare interrogazioni parlamentari a livello europeo in quanto deve esserci sì un accordo bilaterale ma quello che noi vogliamo ottenere è anche un accordo universale, nel senso che i frontalieri che vanno ad esempio in Austria o che vanno direttamente in Francia, italiani naturalmente, devono avere delle stesse condizioni perché siamo all'interno dell'Unione Europea e noi parliamo di mobilità di cittadini ma dobbiamo parlare anche di mobilità di lavoratori. Io faccio fatica a definirli frontalieri, coloro che vanno in Francia perché per me sono europei. Ormai dovrebbe essere una cosa unica. L'abbiamo anche approvato e su questo penso sia utile anche comunicarlo ai telespettatori la cosiddetta direttiva sulle qualifiche professionali, cioè esiste e l'abbiamo approvato un passaporto del lavoratore, quindi non parliamo più di mobilità del cittadino ma di mobilità di una qualifica professionale e questo deve secondo me poi essere anche applicato a livello nazionale in base alla tassazione, cioè noi abbiamo creato la cornice, il contenuto e poi quello che sarà il quadro generale deve essere definito da accordi bilaterali. Scaiola, vediamo che l'Europa che a volte viene considerata distante non è distante perché sono problemi concreti anche del nostro stretto territorio che hanno un'attinenza con l'Europa, vengono sviluppati lì. Assolutamente, l'Europa ha un ruolo fondamentale. L'Ara Comi, l'Onorevole Comi è sempre stata, è tuttora vicina a questi problemi che colpiscono molto la provincia d'Imperia perché sicuramente i frontalieri, ma come ha detto giustamente lei, questi cittadini europei, sono tantissime migliaia di famiglie in questo caso che vanno ogni mattina nel Principato di Monaco o nella vicina Francia per lavorare. Sono anche molto ben accetti al di là del confine italiano perché hanno sviluppato delle professionalità anche importanti, quindi vanno volentieri, sono fondamentali per l'economia di quei paesi e però spesso si trova in una condizione strana, ovvero che anche sì è vero se si parla di Europa, però il loro paese originario, quindi l'Italia, sembra quasi spesso dimenticarsene e spesso su di loro mette in atto politiche fiscali che sono impressionanti inaudite perché alle volte si arriva a un rischio di tassazione che andrebbe quasi a coprire il 50% se non di più, molto di più dello stipendio che loro percepiscono, quindi situazioni che economicamente sono insostenibili, quindi serve un intervento dell'Europa, serve un intervento in primis del Governo nazionale, quello che noi insieme agli associazioni dei frontalieri spesso sottolineiamo che al di là del bonus fiscale che però, ancora grazie che c'è stato in questi anni, ci mancherebbe, però è sempre stato al photo finish, qualcosa di importante che arrivava nell'ultima manovra alla fine dell'anno, serve una stabilità normativa che riconosca questo tipo di professionalità che l'Europa sta già riconoscendo ma serve anche un riconoscimento nazionale per dare loro un motivo anche di lavorare con estrema serenità. E in un momento dove purtroppo vediamo anche una certa disoccupazione, una crisi di lavoro nel Ventimigliese, in quelle zone, anche poter lavorare in Francia è una possibilità anche per tanti giovani italiani anche di poter andare a lavorare, brutto come discorso perché uno preferirebbe, però è reale perché ovviamente lo sviluppo turistico Monaco-Mentone è molto forte e quindi ci si aprono delle possibilità, anche gli artigiani, esatto, si aprono delle possibilità di lavori importanti, dobbiamo ragionare in un'ottica non più Francia-Italia giustamente e in Europa, però bisogna riconoscere gli sforzi che fanno queste famiglie che oramai da tradizioni a tanti anni e sono veramente migliaia, vanno ogni giorno all'estero. Stringiamo un po' il campo perché non posso frenarmi da non fare una domanda politica, insomma sono giornate ore direi frenetiche anche all'interno delle PDL, Berlusconi, Alfano, Scissione, non Scissione, cosa sta succedendo e cosa ne pensa lei? Sta succedendo non tutto quello che leggete sui giornali, ecco questo è un primo messaggio che vorrei lanciare perché è vero che c'è una discussione, un dibattito, un confronto interno e mi piacerebbe che rimanesse interno e non mediatico perché spesse volte utilizzando i media, poi voi lo sapete sicuramente meglio di me, si enfatizzano determinate situazioni. Abbiamo letto quindi dalle ultime agenzie, perciò dichiarazioni degli stessi interessati, che l'unità del partito per noi è fondamentale, sia rappresentanti dai falchi e dalle colombe, io onestamente non amo queste divisioni anche perché possono esserci due pensieri diversi, ma l'obiettivo è uno, ovvero quello di riconoscere Berlusconi come leader, questo è stato fatto da tutti gli esponenti del partito e di avere un'unità del partito. All'interno si può discutere di come strutturare il partito, allora questo è un altro dibattito, è un dibattito secondo me necessario, noi non abbiamo una cultura data dalle primarie come può essere il PD, poi primarie, permettetemi col punto di domanda, perché se le primarie devono essere, devono essere per tutti, abbiamo visto poi le liste delle politiche dove a volte il primo posto era dato a uno che veniva catapultato dall'alto e non dalle primarie, quindi se sono delle primarie a metà poco piacciono. Noi dobbiamo sicuramente ristrutturarci anche perché il presidente Berlusconi in seguito a delle vicende che tutti voi conoscete non avrà più una agibilità politica a 360 gradi e quindi penso che il partito debba essere sicuramente più presente sul territorio, fare anche un po' di pulizia non fa male, anzi ritengo che possa essere nuova linfa, nuova vitalità non solo per i giovani ma per coloro che sono arrivati da Forza Italia e che poi magari hanno avuto delle delusioni e si sono allontanati. Il merito deve essere l'elemento chiave e soprattutto la presenza sul territorio deve essere un altro aspetto chiave che deve unire questo partito che si rigenera. PDL o Forza Italia? Forza Italia. Forza Italia. Ma l'abbiamo già annunciato ufficialmente con l'ufficio di presidenza dell'altro giorno. Una domanda personale, la giornata tipo di un europarlamentare a Bruxelles, cosa succede? Assomiglia un po' come tempistiche a una giornata più o meno universitaria, nel senso che noi iniziamo alle 8 con i breakfast meeting, ovvero si fanno queste colazioni, attenzione sono assolutamente normali, molto caste, nulla di banchetti che possiate pensare, iniziamo le riunioni, i primi dibattiti. Poi alle 9 e mezza inizia la commissione, finisce alle 12 e mezza, abbiamo questo break per avere pranzo, ma nello stesso tempo anche per fare gli incontri con le varie associazioni di categorie oppure incontri anche tra parlamentari stessi, le preparatorie. Poi ritorna ancora la commissione fino alle 6 e mezza e lì dopo le 6 e mezza abbiamo sempre ancora nuovi incontri oppure altre riunioni di gruppo. La più giovane parlamentare italiana? Sì. Una soddisfazione in un momento in cui la politica allontana i giovani? Dove essere un esempio questo. Ma diciamo che è una soddisfazione ed è una vittoria per i giovani, perché sono state elette a preferenze, quindi non è stata una scelta dall'alto se non ringrazio Berlusconi per aver dato fiducia a una ragazza di 26 anni che si è candidata. Non vedo Marco anziano, anzi ritengo che anche Marco possa rappresentare al meglio quello che si viene a definire rinnovamento. Però i suoi anni inizia a verli. Non li dimostra. Quindi quello che volevo indicare è che il rinnovamento non passa spesse volte per l'età. La rottamazione così definita rinziana per me non è basata sull'età, ma è basata sull'approccio che uno ha nei confronti della politica, perché esistono dei giovani che sono vecchi dentro più di quelli che dimostrano magari qualche anno in più. L'approccio alla politica deve essere anche, secondo me, per coloro che hanno fatto una gavetta, cioè per coloro che hanno iniziato da giovani, iniziato a 19 anni, anche Marco ha dietro di sé una storia lunga di gavetta nel giovanile, quindi per noi è una struttura, siamo anche strutturati, secondo me, meglio per poter rappresentare il territorio. Grazie all'onorevole Lara Comi per essere stata con noi. Grazie a voi. Buon lavoro in Europa, grazie al consigliere regionale Marco Scaiola e grazie a tutti voi per il cordiale ascolto. Arrivederci.